Le due persone distese che non si sa se sono morte o vive. Ho capito, c'è ancora il gas lì dentro? Non c'è il gas, è sicuro. C'è ancora il gas lì dentro o sono aperte in quei luoghi? Ma il mio collega dice che stando giù gli viene da svegliere. Era il 20 settembre 2018 quando Filippo Bagni e Piero Bruni morirono asfisseati a causa di una fuga di gas argon dall'impianto antincendio dell'archivio di Stato di Arezzo. Adesso, a quasi due anni di distanza, arriva l'avviso di chiusura indagini del PM Laura Taddei, sotto accusa 18 persone per le quali, secondo la procura, sarebbero ravvisabili negligenze, imperizie e omissioni che portarono alla morte dei due impiegati. Si va dal direttore ed ex direttore dell'archivio ad imprenditori e tecnici preposti al controllo dell'impianto d'allarme il cui malfunzionamento scatenò la fuoriuscita di gas argon. Avviso di chiusura indagini anche per i dirigenti dell'Igeam, la società romana a cui erano state affidate le verifiche di sicurezza e i corsi di formazione e per un dirigente dei vigili del fuoco di Arezzo. Per tutti l'accusa è quella di omicidio colposo, oltre che di reati differenziati come falso ideologico e mancato rispetto della legislazione sulla sicurezza. Gli indagati adesso avranno 20 giorni per chiedere di essere interrogati o per presentare memorie difensive, poi il PM potrà procedere con le richieste di rinvio a giudizio. In quel caso spetterà il GIP a decidere se mandare o meno a processo gli indagati. La mattina del 20 settembre 2018, in via del commissariato, scattò l'allarme e antincendio. I due impiegati si recarono nel seminterrato del palazzo per verificare cosa fosse successo, ma il vano delle bombole di gas Argon, che deve sprigionarsi verso l'esterno e solo in caso di incendio, era già invaso dal gas. Per i due non ci fu scampo, morirono all'istante. Le successive perizie avevano poi evidenziato una serie di errori nella progettazione, esecuzione e manutenzione dello stesso impianto, con tanto di pezzi manomessi o addirittura montati al contrario.